La ringrazio ancora sentitamente. Egregio direttore, la ringrazio ancora sentitamente per avermi assunto nel suo istituto. Mi perdoni se ho la presunzione di offrirle un presente che potrebbe a tutta prima metterla a disagio. Ma dopo essermi consigliato con suo figlio, ho pensato ad una pipa che le usa nei rari momenti di riposo. D'altronde so che lei ha già tutto quello che potrebbe desiderare. Possa lo stato di coscienza che le ha suggerito di assumermi, regnare ancora nella sua anima per farle assumere altri giovani che come me hanno assoluto bisogno di lavorare e di credere ancora nella vita. Grazie ancora e se permette un abbraccio di sentire. Questa mail l'ho scritto al direttore del centro Affettatura Carni e con questa mail il direttore mi ha risposto Caro Rossi, benissimo, sei riuscito a farmi cosa gradita, sebbene io rifiuti di accettare i regali. Ti ringrazio ancora. Spero di riuscire ad assumere altri giovani come te che siano per me del tutto sconosciuti al di fuori della pressione operata da mio figlio. Credo infatti nel conseguimento della progressiva comunione con l'assoluto come viene insegnata dal Kriya Yoga. Come tu dici, un abbraccio di sentire anche a te. Come tu dici, un abbraccio di sentire anche a te.